Tre giornate di dibattito sul tema delle donne che vedono a confronto diversi attori territoriali impegnati nella prevenzione e contrasto alla violenza, a promuoverle la Casa per le Donne Maltrattate di Napoli-Fiorinda, che opera sul territorio per offrire accoglienza e protezione alle vittime di abusi e maltrattamenti. L'obiettivo è quello di mettere in rete realtà diverse del territorio nazionale sui temi del contrasto alla violenza sulle donne. Casa Fiorinda è un'esperienza sicuramente innovativa che va implementata, va duplicata e accoglie 24 ore su 24 le donne che necessitano di protezione e necessitano di accoglienza. La giornata di studio dedicata alla costruzione dell'identità di genere è organizzata nell'ambito del Marzo Donna 2014 dalle cooperative Eva e Dedalus, che gestiscono in un bene del comune sottratto alla Camorra la Casa Fiorinda per le donne maltrattate. Casa Fiorinda risponde al 1522, il numero verde contro la violenza sulle donne, quindi qualunque donna è a conoscenza del numero di telefono di Casa Fiorinda, può telefonare direttamente a Casa Fiorinda e chiedere sia protezione ma anche semplicemente un consiglio, una consulenza legale, un sostegno psicologico. Ma qualora non si sia a conoscenza del numero diretto della Casa di Accoglienza, basta telefonare al 1522, il numero verde nazionale della Presidenza del Consiglio.